E torniamo anche oggi a assaporare la felicità di una sconosciuta, mi auguro che la signora Giovanna Francesca De Filippis non si senta offesa, ma ai più è sconosciuta, ma è bello quello che ha scritto perché avvalora la nostra tesi, il nostro pensiero che la felicità è nell'ordinario delle cose, è nella capacità di stupirsi, è nella capacità di sentirsi amati, ma anche nella capacità di passare da questo amore ricevuto a un amore donato. Insomma, come abbiamo detto altre volte, la felicità non è una parola, la felicità è un movimento, è un cammino, è un dizionario, un vocabolario, una enciclopedia, ci sono tante parole che vanno e che fanno da corollario alla felicità e che ci portano ad essere felici. Ma oggi vorrei soffermarmi su, appunto, sul peccato come via alla felicità. Ho detto qualche tempo fa, forse scandalizzando qualcuno, perché qualcuno mi ha scritto, che io sono felice di essere peccatore, ma in che senso? Non di peccare, perché sappiamo che la nostra fragilità ci porta al peccato. Noi dobbiamo impegnarci, non tanto a non peccare, perché prima o poi pecchiamo tutti, pecchiamo sempre, ma a riconoscerci i peccatori e a sentire nel peccato non il peso del peccato, ma l'abbraccio che Dio mi dà al solo mio pensare al pentimento, all'abbraccio, al camminare suo di Dio verso di me, anche quando io solo esprimo o sento nel cuore il desiderio di pentirmi e di tornare a casa, tornare a casa da mio padre. Giovanna Francesca De Filippi scrive, dice, sono felice perché sono amato, perché il Signore mi attende oltre il mio peccato. Ecco, in queste parole ho ritrovato i miei sentimenti. il Signore mi attende oltre il peccato. Il Signore sa bene che se io voglio, Lui è pronto non solo ad attendermi, ma a venirmi incontro e a rialzarmi tutte le volte che cado per il peccato. e potrò cadere altre mille volte, dice la nostra Giovanna Francesca De Filippis. Mille volte incontrerò il suo sguardo innamorato. Mille volte cadrò, mille volte peccherò. È lo sguardo di Dio, è sempre lo sguardo dell'innamorato. Certamente quando lo ferisco è lo sguardo di un innamorato ferito, di un innamorato che soffre, un innamorato che soffre per le ferite che io stesso faccio a me stesso. Guardate, quando uno ama, la infelicità, il dolore più grande, sapete da dove viene? Dal vedere la persona che si ama distruggersi, dal vedere la persona che si ama infelice. Noi umani risentiamo dei tradimenti, cioè ci sentiamo feriti. Ma io credo che Dio, pur sendendosi feriti dai nostri tradimenti, lui sa andare oltre questo sguardo profondo che va oltre il mio peccato. Questo sguardo che sa vedere nel mio peccato comunque la possibilità di salvarmi. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!